Vi parlo dall'Open Studio Italo Bolano a Prato, uno studio che i nostri telesvedatori ormai ben conoscono perché l'abbiamo frequentato con la nostra troupe sia quando il maestro Bolano qui operava giornalmente e realizzava le opere che ci ha lasciato in eredità alla comunità artistica non solo della regione che lui ha amato e dove ha vissuto ma al contesto internazionale perché soprattutto grazie alla presenza all'Isola d'Elba del museo che Italo nel corso dei decenni è riuscito a far vivere e ovviamente tantissimi turisti provenienti da ogni parte del mondo lo hanno visitato e lo hanno conosciuto. Nella memoria di Italo la moglie Alessandra Ribaldone ha aperto questo spazio anche al pubblico è stato inaugurato qualche mese fa e noi ovviamente eravamo presenti e chi vorrà rivedere quel vernissaggio potrà andare sul nostro canale YouTube e ci eravamo lasciati con Alessandra con la promessa che appena iniziava la stagione espositiva all'interno di questo spazio completamente restaurato ci avrebbe convocato e noi oggi siamo presenti perché tra circa mezz'ora si inaugurerà una mostra al titolo Camera Blu ne è protagonista l'artista fiorentino Marco Mazzi che ora ci verrà presentato dopo l'intervento di Alessandra dalla dottoressa Erika Romano direttore artistico della Galleria però prima doverosa premessa con Alessandra che vorrei ricordarsi ai telespedatori anche l'omaggio tributato dalla città di Prato nella sala ovale della provincia di Prato a Italo Bolano una mostra che ha avuto tantissimi visitatori tantissimi intermezzi perché ci sono stati convegni ci sono stati momenti di studio e si è conclusa da pochi giorni e noi abbiamo seguito anche quella e quindi sul nostro canale sarà possibile rivedere anche i due servizi che gli abbiamo dedicato la parola a Alessandra Ribaldone Grazie Fabrizio è per me un onore e veramente una gioia essere qui oggi il secondo appuntamento pratese che ci eravamo proposti come fondazione fin dall'inizio dell'anno il primo come tu hai detto giustamente si è appena concluso e ha voluto ricordare la figura di Italo Bolano non solo come artista ma come animatore e interprete anche della socialità di questa che era diventata la sua seconda città e questo primo appuntamento è per me molto importante perché sancisce l'inizio di quello che io spero sarà una lunga stagione espositiva che vedrà artisti in colloquio con il maestro Bolano ma anche in colloquio tra di loro come vi racconterà a breve la nostra Erika e quindi il programma della fondazione va avanti e io ho la speranza che questo appunto sia la prima tappa di una serie non solo di esposizioni di arte pittorica e arte figurativa ma anche di eventi perché ricordo a tutti che questo è uno spazio disponibile a tutti coloro che vogliono fare cultura vogliono fare arte nelle più varie espressioni Allora Alessandra, approfittiamo di questo tuo appello ai nostri tre spettatori fra i quali ovviamente ci sono tantissimi artisti che ci seguono da ogni parte della Toscana e non solo perché grazie al nostro canale YouTube siamo seguiti ovviamente anche nel resto d'Italia e in Europa e anche in altre parti del mondo perché spesso dedichiamo a artisti che provengono da ogni parte del mondo ai nostri servizi e quindi sono visti anche in molti altri paesi oltre all'Italia e vorrei che il nostro regista Marco Frosini magari mettesse in sovrimpressione le coordinate per cercare un contatto sui social con l'open spazio Italo Bolano Ti ringrazio sempre in quest'ottica avremo nell'ambito di questa mostra che durerà tre settimane un primo intervento musicale di cui vi parlerà Erika appositamente realizzato per questa camera blu io quest'oggi mi sono vestita di azzurro di celeste proprio come omaggio al blu che ora non è solo più di Italo ma è diventato anche di Marco e quindi grazie ancora e vi aspettiamo all'open space Italo Bolano con Marco Mazzi e ora vorrei che la dottoressa Erika Romano presentasse ai nostri telespettatori il protagonista di questa prima stagione espositiva 2022 e 2023 e poi ovviamente presentasse anche nella sua interezza il progetto che ci traghetterà da oggi fino all'estate 2023 Grazie mille sono molto felice di potervi presentare questo primo artista ospite nell'open studio Italo Bolano che è Marco Mazzi è un pittore e artista multimediale che incontrando la produzione di Bolano ha trovato subito l'argomento di dialogo che lo ha toccato particolarmente al punto da portarlo a creare una nuova produzione del tutto inedita quindi lui sta presentando qui stasera delle opere che ha realizzato per l'occasione tutto quello che noi stiamo esponendo sono delle tele che lui ha realizzato fotografando l'ultima opera appartenuta e realizzata da Italo Bolano che voi avete esposto ovviamente come punto di riferimento dell'intera mostra di Marco esattamente l'abbiamo lasciata esposta in modo che le persone possano rendersi conto della profonda unione che lega adesso questi due artisti facendo una foto di un campione dell'opera ha estratto da questo campione una miriade di sfumature di blu si è accorto che all'interno di questo campione esistevano tanti blu Bolano una miriade di sfumature che in realtà appartengono alle vedute marine tanto care a Bolano le vedute marine albane chiaramente e Marco Mazzi ne ha fatto un pensiero, una riflessione sulla espressività del colore facendo sì che la pittura digitale emulasse la pittura il gesto pittorico di Bolano la cosa molto interessante che non è subito visibile ma è importante raccontare è che si tratta di getto d'inchiostro su tela dunque un aerografo ha spruzzato il colore direttamente sulle tele quindi non è semplicemente una fotografia portata su tela ciò fa sì che ogni tela sia unica non sono semplicemente foto ma si può entrare all'interno di questa camera che è stata realizzata con lo stesso tipo di blu proveniente dalle tele di Italo ma fatte proprie dall'artista che è stato capace di tradurre in chiave digitale attraverso un file tutto questo mondo incredibile a leggere il file di Marco e questo è altro elemento di orgoglio di grande interesse sarà una musicista che il 25 novembre farà qui un live musicale e leggendo il file dati creato da Marco tradurrà in suono quelle immagini allora Erika vorrei che tu invitassi i telespettatori perché non è un'esibizione musicale riservata solo a un'elite o un gruppo di invitati ma possono partecipare tutti l'ingresso è libero ricordiamo l'orario ricordiamo l'indirizzo anche dell'Open Studio Italia il 25 di novembre alle ore 19 l'artista Assadi farà una performance live musicale qui all'interno della mostra ricordiamolo via Fra Bartolomeo siamo a 100 metri da Piazza San Marco conosciutissima per la scultura celeberrima di Henry Moore esatto e vi ringrazio allora visto che abbiamo l'opportunità di avere qua l'artista concludiamo il servizio con il suo intervento che sarà illuminante per quanti verranno nei giorni prossimi a visitare la mostra e concludiamo il servizio con l'intervento di Marco Mazzi che fra poco ovviamente durante il vernissage presenterà i suoi lavori al pubblico noi abbiamo un po' anticipato perché l'ultima volta che siamo venuti qua allo studio Volano c'era un pubblico strabocchevole e quindi per noi era quasi impossibile poter lavorare diamo il benvenuto perché è la prima volta che ci incontriamo speriamo sia la prima volta di una lunghissima serie perché Marco pur essendo fiorentino ormai è un artista di fama mondiale quindi lo dovremmo rincorrere nei posti della nostra regione degli altri magari ci darà notizia a lui quando ha esposto come ha detto prima Erika varie parti del mondo soprattutto in Giappone ora si confronta con un grande maestro toscano contemporaneo qual è stato Italo e qual è Italo Bolano questo blu Bolano è un po' un blu quasi irreale perché è onirico perché Italo ci aveva messo tutta la sua fantasia il cuore, la testa perché rappresentava la sua mediterraneità e infatti il lavoro di Bolano mi ha subito affascinato per un discorso legato al colore io stavo già lavorando sul blu per conto mio cioè volevo fare dei lavori con questo cromatismo poi quando ho scoperto il lavoro di Bolano ho trovato una risposta la risposta era entrare in questo blu e con una tecnica digitale questa volta è la prima volta che uso una tecnica di pittura digitale ho sempre fatto pittura diciamo tradizionale però è la prima volta che uso il computer e il computer mi è servito per cogliere le varie sfumature che ci sono nel blu di Bolano perché si pensa a un blu sembra una stesura unica mentre io ho scoperto che col computer si potevano vedere migliaia io potrei andare avanti tutta la vita prendendo dei frammenti di questo blu e fare delle elaborazioni di questo tipo quindi è un qualcosa di inesauribile pensare che io ho fotografato solo tipo 20 cm però in questi 20 cm ci sono migliaia di sfumature ci sono questi blu più tenui questi blu più notturni quelli più verdi insomma è un universo tu li hai reinterpretati li hai filtrati li hai analizzati li hai riutilizzati sì io ho realizzato questi collage digitali e quando sono arrivato nel momento in cui dovevo colorare questo lavoro ho colorato attraverso il blu di Bolano cioè attraverso queste sfumature di blu e ogni quadro è un punto di blu diverso oppure punti di blu diversi tutti tratti dallo splendore di questo dalla ricchezza di questo blu che a guardarlo sembra un colore così unico però ci sono migliaia di sfumature io ti ringrazio concludiamo il servizio da Prato invitando i nostri spettatori a venire a visitare questa mostra che avrà la durata di tre settimane è aperta su prenotazione quindi vi consigliamo ora passerà il nostro regista il contatto su Instagram che potete ovviamente contattare prima possibile per fissare un appuntamento e venire a visitare la mostra vi ricordo all'Open Spazio Italo Bolano in via Fra Bartolomeo a Prato Grazie a tutti